In molti mi state chiedendo se io opero in tutta Italia e se non opero direttamente in tutta Italia, se esiste un mio clone in Piemonte piuttosto che in Sicilia, piuttosto che in Trentino. Se vuoi la mia personale risposta, te la becchi dopo l'intro. Bene, Ugo, allora tu operi in tutta Italia? Vieni a trovarmi a Livorno? No, la mia risposta sincera è proprio questa qua. Non ce la faccio fisicamente a spostarmi in tutta Italia. In molti mi state chiedendo come poter trovare un mio clone che possa dare delle informazioni dirette oppure che possa venirti a fare un sopralluogo direttamente a casa tua a distanza di 500 o 600 km. Purtroppo la risposta ti devo dire è no. Non riesco ancora a trovare la macchina che clona Ugo, ma ti assicuro che sarebbe veramente una s***a avere tanti Ugo in giro per l'Italia. Allora guarda, mi sto attrezzando. In che maniera? In una maniera abbastanza semplice. Ho ideato questo protocollo che si chiama protocollo Biomassa Sicura proprio per rendere replicabile un po' tutto il lavoro che tu vedi che sviluppo qui in Veneto e anche in Friuli e in parte dell'Emilia per poter dare una mano anche a te che stai cercando delle risposte, degli installatori specializzati e di avere soprattutto caldo in casa usufruendo dei contributi del conto termico che attualmente ci sono. Come sto facendo? Anzi, che cosa ho in testa di fare? Beh, ho in testa anche di chiedere un tuo aiuto. Le strade che sto perseguendo sono due. La prima è diretta e cioè tra tanti privati che mi chiedete informazioni ci sono anche degli installatori che mi chiedono delle informazioni, non tanto delle informazioni su come operare perché già loro sono bravi, ma su delle informazioni su come poter applicare anche nei loro clienti il protocollo Biomassa Sicura. E quindi se da una parte io sto già sviluppando questo tipo di lavorazione con degli installatori per darti proprio un'idea, la seconda settimana di maggio, quindi dal 7 maggio in poi, sono impegnato in un piccolo tour che parte dalla Lombardia, poi scende in Emilia, in Toscana perché ho già degli appuntamenti fissati con degli installatori molto specializzati di quelle zone ai quali appunto iniziare a replicare il mio lavoro. Quindi se da una parte io già mi sto avvicinando a te in questa maniera, dall'altra chiedo comunque a te che mi stai guardando un aiuto. Ed è questo, se tu conosci degli installatori veramente bravi che vogliono specializzarsi in questo tema della biomassa legnosa, allora fai una cosa, scrivimi qui sotto o nei commenti o mi mandi una mail oppure trovi all'interno del blog il mio numero whatsapp, mi scrivi, se vuoi mi dai anche direttamente il contatto dell'installatore, sarà mia premura contattarlo e cercare di capire se questa collaborazione può esistere anche con lui. Una collaborazione che è sempre volta all'interesse tuo e cioè quello di portare tutto quello che tu vedi nei video, soddisfazione, lavori fatti bene, pratiche del GSE chiuse, soprattutto l'accessione del credito finché ce n'è ancora spazio a livello economico, beh allora sono qua. Quindi chiedo una mano anche a te, non tanto per clonare l'ugo, perché sarebbe ripeto una bella sfiga, ma per avere dei professionisti in zona che siano in grado di specializzarsi proprio in un tema così importante come il riscaldamento con la biomassa legnosa. E anche per oggi io ho finito, ci vediamo nel prossimo video, ricordati qui sotto c'è sempre una serie di link tra i quali trovi quello del protocollo biomassa sicura, quindi se tu vuoi avere delle informazioni specializzate e personalizzate per casa tua, clicca qui sotto e poi noi ci sentiamo. Io ti saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!